Non si sa che abbia peccato di più in termini di vanità. Se lui, il ciapo, il narcotrafficante più potente al mondo, riuscito a scappare ben due volte da carceri di massima sicurezza, accusato di avere sciolto nell'acido oltre 300 persone e legato alle cosche dell'andrangheta calabrese, o lui, Sean Penn, attore e regista premio Oscar, che non ha resistito a vestire per un giorno i panni di giornalista, intervistando il latitante che avrebbe voluto diventare protagonista di un suo film e finendo così ora per essere indagato. E non è il solo ad essere finito nel mirino delle autorità messicane, visto che ad organizzare l'incontro sarebbe stata l'attrice Kate del Castillo, che avrebbe intessuto con il ciapo un rapporto di estrema fiducia e di intimità su cui gli inquirenti vogliono vederci chiaro. Durante l'incontro nella giungla, durato sette ore, il narcotrafficante ha raccontato, nell'intervista poi pubblicata interamente da Rolling Stones, di non considerarsi un tipo violento. Voce bassa e pacata, cappello da baseball e camicia huaiana, il ciapo potrebbe sembrare chiunque, ma non quello che è. Il suo racconto si snoda tra le motivazioni che lo hanno portato ad entrare nel mercato della droga, dare una mano alla famiglia bisognosa, fino a quel moto di orgoglio che lo porto a dire, sono quello che vende più ruina, metanfetamine, cocaina e marioana al mondo, o una flotta di sottomarini, aerei, camion e barche. I suoi traffici, la sua vita, tutto sembra rientrare in una sorta di ordinarietà di cui spera venga investita anche la sua morte, che, ammesso, si auspica avvenga per cause naturali. Dalla Mezzia Terme, Tiziana Bagnato, per la C News 24.